Ciao, bentornato sul canale di Stats4Bets. Finalmente ci siamo, questa settimana ricomincia la Serie A. Abbiamo già ricominciato con i video sul calcio e sui pronostici perché abbiamo visto il derby di Manchester, finale di Community Shield, andato molto bene. Domani uscirà il video su Real Madrid-Atalanta, quindi riprenderemo poi ovviamente anche con i video della Serie A, ma in questo video ti faccio vedere come mi sto preparando per l'asta del fantacalcio, perché in un precedente video ti avevo mostrato il GPTs che ho creato per il fantacalcio. C'è stato un problema, che sono state troppe richieste, troppi accessi, siccome era una versione beta, a un certo punto è impazzito. hanno cominciato a dare giocatori che non giocavano più da non so quanti anni e quindi cercando poi di capire anche insieme a Viviana che ovviamente si sta occupando del GPTs, quello serio, per il superfoglio, mi ha detto guarda in questa versione beta che stai utilizzando tu dopo un tot di richieste impazzisce. Quindi ho dovuto interromperlo quella cosa, c'erano troppe richieste. Però ne ho portato avanti un'altra, la utilizzo solo io, ma ti mostro come funziona e come l'ho integrata in superasta fantacalcio. Allora, andiamoci a prendere. Qui intanto c'è il libricino di superasta fantacalcio che trovi su Amazon, 0,99 centesimi o 0 proprio per chi ha Kindle Unlimited, che spiega la suddivisione dei budget in base ai moduli che ho implementato in superasta fantacalcio. Se hai visto altri video di superasta fantacalcio sai già come funziona, i vari moduli che si possono scegliere, come impostare i modificatori, come questo cambia le strategie dei vari budget. Non lo so, per esempio, modulo mio è in un modo, modulo 433 porta la spesa in un altro modo, vediamo le spese che cambiano, eccetera, eccetera. Ci sono già tanti video che fanno vedere queste cose. Allora, io ho, diciamo, portato questa cosa di chat GPT in vari settori. Adesso te li faccio vedere. Il primo chat GPT che ho creato è proprio per l'analisi dei giocatori, dei singoli giocatori, delle caratteristiche che possono avere, media voto, che hanno avuto, ma anche altri indici che ho creato insieme a chat GPT, sfruttando il suo algoritmo, mi sono aiutato a creare degli indici su ogni singolo giocatori. Poi ho fatto un GPT per le notizie, perché comunque in questi ultimi giorni, su miliardi di quotidiani escono notizie, informazioni, rumors, eccetera, eccetera. Ne ho creato uno che me li cerca lui, me li segnala, e mi segnala sia se la notizia è un rumors, quindi in questo caso affari non ancora conclusi, quindi non ufficializzati, oppure quando invece vengono ufficializzati. E infine ne ho creato uno che mi dica i giocatori se sono titolari oppure no. Soprattutto questo sarà utile quando avrò terminato la mia rosa dopo l'asta, in modo tale che gli posso dire, non lo so, facciamo un esempio. Soprattutto sperando di riuscire a prendere Lautaro Martinez. Allora, Lautaro Martinez gioca. Lui si fa l'analisi dei sei o sette siti che gli ho detto di controllare e mi dice con quanta probabilità Lautaro Martinez sarà titolare. Qui viene dato al cento per cento, ovviamente, su Sky Sport dicono di sì, su Fantacalcio.it dicono di sì, Gazzetta sì, Fantapaz sì, Fantamaster sì, SOS Fantasy, Corriere dello Sport sì. Questa non è la formazione ideale dell'Inter, questa è proprio la formazione di domenica prossima, quindi di Genoa Inter, che anzi in realtà, se non sbaglio, si gioca venerdì. Quindi lui controlla le probabili formazioni settimana per settimana e ti dice via via quello che è la probabilità che il tuo giocatore sia titolare oppure no. Facciamo un altro esempio, non lo so, chi possiamo mettere come esempio, Svilar della Roma, Svilar gioca, poi ovviamente queste sono le redazioni che ho scelto io, ma se voi conoscete dei siti più affidabili di questi, segnalatemi che li integro. Anche Svilar al 100% mi dice che è ok, che giocherà, quindi la funzionalità è questa per capire quando hai un giocatore che magari è in dubbio se gioca oppure no, se può velocizzarti la scelta. Questa delle notizie, per esempio, possiamo chiedergli oggi ci sono notizie ufficiali uscite proprio oggi e non nei giorni precedenti. Vediamo che dice. Gli dico questo perché fino a ieri sono stato, diciamo, aggiornato, quindi è inutile che mi dà notizie su cose che magari già ho letto. Emerson Royal è ufficialmente diventato un giocatore del Milan. Oggi? Non lo so, questa cosa la dovrò andare a controllare, mi sembra un buon acquisto, una cosa interessante nuova, l'Udinese ha, per esempio, venduto questo giocatore, la Roma, vabbè, l'attaccante ucraino l'ha fatto, l'ha ufficializzato prima, però la ragione di questa della Roma, per esempio, è che le fonti che lui sceglie, alcune, non indicano la data, mentre altre la mettono, altre le trova in pagina, quindi magari non riesce a differenziare tra la notizia uscita oggi oppure no, però pure questa cosa è utile perché Emerson Royal al Milan, dopo andrò effettivamente a vedere sulla gazzetta dello sport se è stato ufficializzato oppure no. E poi, vabbè, per la scelta dei giocatori è questo, cioè, questo qui ci ho perso veramente una miriade di tempo e adesso vi faccio vedere come funziona. Indicami il centrocampista con gol attesi più alto di una squadra di fascia media. Vediamo che viene fuori. ovviamente l'analisi è in corso. Ci metto un po' perché comunque i dati che gli ho inserito da farli analizzare sono veramente una miriade. Ho perso una settimana intera praticamente a creare e raccogliere dati e interfacciandomi con lei a chiedergli come migliorare questo algoritmo di selezione. e vabbè, ci sta, ci sta perché il centrocampista di fascia media con il valore di gol attesi più alto è Orsolini. 7.6 gol attesi, 3 assist. Nell'ultima stagione ha avuto 6.16 media voto, 33 gol, 10 gol fatti, 2 assist fatti, spesa consigliata, 50 crediti su 500 per Orsolini. Questa cosa che più mi interessa è l'indice di gradimento e l'indice dei bonus attesi. Perché l'indice di gradimento è una valutazione generale del giocatore che tiene conto del suo stato di forma, di quanto è titolare, della squadra in cui gioca, e diciamo notizie intorno ad Orsolini generali. L'indice dei bonus attesi, se vediamo, è più basso rispetto a questi che poi ci segnala sotto. Perché? Perché l'indice dei bonus attesi non è una quantità di bonus, quindi non è che ci aspettiamo 3,7 bonus. È un corrispettivo che mette in considerazione la squadra anche. Quindi se Orsolini passasse all'Inter, e l'Inter probabilmente segna più gol del Bologna, aumenterebbe l'indice dei bonus attesi. Quindi lui dà una valutazione in base al giocatore, alla squadra in cui gioca e ovviamente alle sue caratteristiche offensive. Perciò su Orsolini abbiamo un 3,74 su 10. Mentre poi, se vogliamo approfondire proprio il giocatore, quanto ci aspettiamo da lui, sono 7 gol. Se Orsolini passasse all'Inter e giocasse titolare, ovviamente avremmo una aspettativa diversa. Qui i gol attesi tengono conto del fatto che Orsolini è titolare o quasi sempre titolare. Se giocasse nell'Inter, potrebbero scendere, perché è vero che è una squadra più offensiva, ma è vero anche che magari non sarebbe titolare. Insomma, questo è tutto un processo che ci ho perso la vita a stargli dietro e a crearlo con ChatGPT, perché sostanzialmente che facevo io? Mi venivano le idee, gliele dicevo a lei, lei me le ritroduceva in algoritmo, io facevo le prove, insomma, è stato un bel lavoro, molto divertente, ha portato a questo. Il problema è che non lo posso condividere, perché essendo in versione beta, poi se arrivano migliaia di richieste, come è successo, si blocca tutto, si impalla tutto. Quindi che ho fatto? L'ho inserito all'interno di Superasta Fantacalcio. È vero che non c'è la ricerca automatica di ChatGPT, ma tutto quello che è stato creato a livello di dati, algoritmo, eccetera, eccetera, è all'interno di Superasta Fantacalcio. Quindi ti dice l'indice dei bonus attesi, l'indice di gradimento del giocatore, quanti gol attesi sono effettivamente attesi, per esempio su Orsolini, ce l'ha dato giusto sto dato, andiamolo a vedere, controlliamolo, perché spesa consigliata è effettivamente 50. Gol attesi 7-6, assist 3-9, vediamo. 7-6, 3-9, ok. Poi Orsolini dove stava? Eccolo qua. Indice bonus 3-7, indice gradimento 6-3. Indice bonus 3-7, 6-3, perché è 6-27. Ok, prende il giocatore giusto, perché alcune volte, vi posso dire la verità, ci ho perso un sacco di tempo, anche perché sbagliava a capire il giocatore che volevo prendere, eccetera, eccetera. Quindi questo è quello che ci aspetta per preparare l'asta del fantacalcio. Una cosa importante è che si aggiornerà e sarà totalmente definito il primo settembre, quando chiude il mercato, perché appunto magari Copmainers cambierà valutazione, se va la Juventus, se l'Atalanta non gioca, eccetera, eccetera. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video.